Anche Napoli sarà in piazza il 29 aprile per contribuire alla ricerca di Teleton sulle malattie genetiche rare. Walk of Life è la nuova iniziativa di raccolta fondi che dal 22 aprile al 6 maggio prevede 8 mini maratone di 10 chilometri in altrettante città italiane. Alla gara podistica sarà abbinata a una passeggiata non competitiva di 3 chilometri aperta a cittadini e disabili e prenderà il via alle 10 in piazza Plebiscito dove è previsto anche l'arrivo. Alla luce della grande compressione economica dei tagli queste gare di solidarietà diventano veramente vitali. Sicuramente un impegno preciso dell'amministrazione a favorire questi eventi e a cercare comunque di catalizzare la parte migliore dei cittadini napoletani e il grande cuore di Napoli. Uno slogan che dice che la ricerca è il destino della ricerca nei tuoi piedi proprio perché ci aspettiamo che tante persone nelle otto città italiane dove abbiamo organizzato le nostre corse vengano e partecipino. Napoli per noi è sempre stata una città molto molto importante, molto calda, qui abbiamo tantissima ricerca finanziata quindi ci aspettiamo una grande risposta della città perché la ricerca ha bisogno di andare avanti. Seconda per importanza soltanto alla maratona televisiva di dicembre la manifestazione mira a coinvolgere adulti e bambini abbinando lo sport e il divertimento all'impegno sociale. Ad oggi in campagna sono circa 300 i progetti di ricerca sulle malattie genetiche finanziati da Teleton con un investimento complessivo di oltre 66 milioni di euro. Alla presentazione in sala giunta hanno partecipato l'assessore Giuseppina Tommasielli ed anche grandi campioni dello sport che hanno aderito all'evento. Gli sportivi dal canto loro spero faranno la loro parte nell'affiancare questa nobile manifestazione cercando di dare quel giusto apporto per la raccolta dei fondi che verranno messi in campo appunto per la ricerca contro queste malattie. L'iscrizione a Walk of Life prevede una donazione di 10 euro. Si può comunque contribuire alla raccolta promossa da Teleton fino all'8 maggio con telefono fisso e mobile al numero 45595. La ricerca scientifica ci aiuta ad aiutare appunto quelli che soffrono e ci aiuta anche ad aiutare il paese perché significa progresso, significa competitività per l'Italia.